Ciao amici, come state? Ormai con questo sole e questo caldo viene solo voglia di vacanza, vero? E allora un saluto a tutti gli amici che in vacanza ci sono già! E noi sfigati che ce ne stiamo qua in casa a patire il caldo? Ci sono anch'io, quindi non siamo sfigati! Un saluto anche a noi! Per tirarci su, questa settimana ho tanti video speciali per voi, ma prima voglio salutare Alessandra e Antonella che mi hanno scritto nei commenti chiedendomi di salutarle. Ma certo, ciao Alessandra, ciao Antonellina, ciao! A proposito, scrivetemi sempre anche voi amici, raccontatemi le vostre esperienze, condividete i video che vi sembrano più belli e utili con i vostri amici, così anche loro saranno belli e sani con Simona Vignali. E per seguire tutte le mie novità basta iscriversi al canale, è facile, basta un click, così! E attivate la campanella delle notifiche, perché magari succede anche a voi come a Martina, che saluto, che mi scrive ogni volta che vedo la notifica del tuo video sono super emozionata, grazie Martina! Un abbraccio e tanti cuoricini anche a te. Ecco i miei video di questa settimana. Per il vlog, in tanti mi avete chiesto di farvi vedere cosa mangio io in spiaggia e quindi farò un video, what I eat in a day, del mio super summer menu. Sì, non vediamolo ora, abbiamo già un certo langorino, vero? Parlando di spiaggia, per tenervi in forma vi farò vedere gli esercizi fisici, il training che faccio io per avere fianchi tonici e snelli. Sono tutti esercizi facili che potete fare a casa e vi aiuteranno con la prova costume. A proposito, se ancora non li avete visti, andate a vedere i miei video con i consigli sulla prova costume per le amiche e gli amici. Noi li abbiamo visti! Per chi come me ha la pelle sensibile al sole, vi spiegherò anche alcune regole per applicare la protezione solare e abbronzarsi senza fastidiose scottature. E per finire questa settimana altri due video. Ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Simona, io con questo caldo bevo solo bibite ghiacciate, ma ho il sospetto che non mi facciano bene. Tu cosa ne dici? Indovina! Come sapete le bibite e anche i succhi di frutta industriali sono i nemici giurati della linea. Per rinfrescarvi, idratarvi e fare anche detox vi farò vedere come preparo la mia acqua detox con infusione di frutta e di verdura. Squaletto chiede se fai un video per i maschietti? Certo, volentieri! Ho visto che questa settimana, oltre al mio video sulla prova costume maschile, molti amici hanno guardato questo video sulla salute della prostata. Così questa settimana vi voglio svelare quali sono i migliori cibi amici della prostata e potete iniziare così a fare prevenzione ogni giorno. E domenica vi svelerò quali sono i dieci cibi estivi amici della linea e perfetti contro il caldo perché aiutano il corpo a mantenersi pulito, drenato e fresco. Ci vorrebbe proprio con questo caldo. Bene, noi ci vediamo presto sempre qui sul canale, vi aspetto naturalmente. Ciao! Ciao!